Musica Dunque per molta gente musica e melodia sono la stessa cosa Sono un piatto unico per così dire E in un certo senso hanno ragione perché che cos'è la musica in fondo Se non una serie di note che procedono a tempo una dopo l'altra In fondo la melodia è l'aspetto cantato della musica come il ritmo e il suo aspetto ballato Visto come è semplice Questo tema praticamente è già in sé un intero motivo Cosa c'è in questo gran tema armonioso che lo rende così affascinante e così amato in tutto il mondo? La risposta è la ripetizione Ripetizione esatta oppure ripetizione leggermente alterata all'interno del tema stesso Musica Non dimenticate che il cuore della questione è la ripetizione Gli autori di canzoni di successo lo sanno ecco perché ripetono tanto spesso le loro frasi Gli autori di canzoni di canzoni di canzoni di canzoni di canzoni Visto come è semplice Come spero ricorderete da uno dei nostri programmi precedenti La stessa tecnica funziona anche per la musica sinfonica Gli autori di canzoni 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 di La crescita del seme melodico in un grande albero sinfonico.